Allora, buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti. Per noi è davvero un onore essere qua e riuscire a presentare la lista di potere al popolo. Una lista che è iniziata dal basso, realmente, da un video di racconto dell'ex OPG occupato, Isopazzo, un centro sociale di Napoli, che vede appunto al suo interno più di 60 attività sociali, di mutualismo, di solidarietà e dal basso che ogni giorno vengono portate avanti. Ecco, questo già dà la cifra di che cos'è potere al popolo. A potere al popolo, dopo il video appello, hanno aderito numerose realtà, dai comitati a singoli partecipanti a organizzazioni politiche. E questo ha creato una rete di più di 150 assemblee territoriali che si sono viste la prima volta il 18 novembre in un'assemblea al Teatro Italia di più di 800 persone e che poi ha dato inizio alla lista al Teatro Ambra Iovinelli con la partecipazione di più di 1000 persone. L'importanza dei territori e l'importanza delle assemblee territoriali sta proprio nella costruzione stessa della lista. Una lista che ha visto i propri candidati decisi appunto da queste assemblee territoriali e quindi candidati che sono espressione diretta dei territori e che ha visto il programma costruito con gli emendamenti di tutte le assemblee territoriali. Appunto proprio perché è un movimento che parte dal basso ed è un movimento che intende rompere con certo modo di vedere la politica e di vedere la partecipazione politica anche la scelta di quello che è la capa politica è una scelta molto particolare. Abbiamo scelto Viola Carofalo che appunto è una donna e non poteva essere altrimenti perché abbiamo visto lo scenario politico come è carente di figure femminili. È meridionale ed è ricercatrice precaria ed è stata espressione appunto della decisione di tutti i territori. Qui oggi per noi è un passo importante ed è anche importante perché abbiamo deciso di portare all'interno di questa conferenza stampa tutte quelle che sono le vertenze sociali che appoggiano potere al popolo e che sono espressione stessa del loro programma. Infatti abbiamo all'interno della sala Anne Suleman Amadou che è un rifugiato senegalese che appena riesce ad entrare perché abbiamo problemi appunto a farlo entrare che vuole il decoro nella stanza, nella Camera dei Deputati. Carmela Petrone appunto candidata a Napoli che è una cuoca, una semplice casalinga che ha deciso appunto di portare la voce di tutte quelle donne che sono escluse dall'arena politica. Giuseppe Costantino, un senza tetto che sta dando appunto un aiuto tramite la rete di solidarietà popolare. Federico Luigi Gallo, delle lotte per la casa. E Maria Vittoria Molinari, del comitato di Dottor Bellamonaca. E poi abbiamo anche Stefana Iaccarino, una candidata ed ex lavoratrice al Maviva. Come vedete, noi oggi siamo riusciti a portare in minima rappresentanza all'interno del palazzo quelle che sono le vertenze e le lotte che animano potere al popolo e che sono l'anima stessa di potere al popolo. Ora passeremo a un'introduzione, una spiegazione del progetto della parte di Viola e poi sarà disponibile per domande e chiarimenti e anche tutti gli invitati sono disponibili. Grazie. Allora, se mi sentite, io partirei, scusate se faccio un altro elenco di nomi ma è doveroso. Vorrei ricordare i tre operai che sono morti a Milano, Marco Santamaria, Giuseppe Sezzu, Arrico Barbieri e vorrei portare i nostri auguri a Giancarlo Barbieri che ancora è in ospedale in condizioni critiche. se abbiamo scelto collettivamente di iniziare così e con questo saluto, con questo pensiero è perché quello che accade ogni giorno in Italia l'insicurezza sul posto di lavoro, insicurezza che riguarda la salute, il fatto che si può andare a lavorare e non tornare più a casa ma anche insicurezza da un punto di vista contrattuale delle prospettive è qualcosa che per noi è inaccettabile. Di lavoro, lo sappiamo, parlano in molti ma sono gli stessi che in questi anni hanno fatto le riforme che ci hanno portato in questa situazione che ci hanno portato in una condizione di precarietà assoluta. Io stessa, lo diceva Matteo prima, sono stata in qualche modo scelta perché incarno questa condizione di precarietà e a 37 anni ancora mi trovo in una condizione di totale instabilità lavorativa. non sono l'unica della mia generazione la mia generazione è fatta di queste storie. È una generazione che non è attiva spesso nella partecipazione politica che è assente dai sondaggi che in qualche modo non crede più nella politica. La prima cosa che noi vogliamo provare a fare è il nostro obiettivo, l'obiettivo più importante è intanto portare a votare chi non è andato mai a votare perché era sfiduciato rispetto al sistema della rappresentanza proprio perché pensava che la sua voce non potesse sentirsi riattivare politicamente tante persone perché non è soltanto attraverso il voto che si attivi politicamente ma anche far smettere di votare soltanto per protesta chi in questi anni si è rassegnato a un voto che era sì veramente inutile cioè il voto a chi continuava in politiche di sfruttamento in politiche che non corrispondevano ai bisogni espressi dalla popolazione. Vorrei sottolineare che abbiamo scelto questo nome come nome della lista perché per noi il nome è già un programma. Potere al popolo per noi significa non soltanto ridare la parola a chi non ha parola anche questo lo si sente spesso ma ripartire con un passaggio con un percorso di attivazione politica che vada oltre il momento elettorale è che ricostruisca un tessuto un tessuto di lotta un tessuto di contrasto alla povertà di contrasto allo sfruttamento di contrasto al razzismo vogliamo costruire un discorso che non parli più soltanto alle pance della gente per cercare di stimolarli semplicemente all'odio nei confronti di chi sta un po' peggio ma che parli alla testa che parli al cuore e che riattivi una volontà di fare. Non ci dobbiamo inventare niente da questo punto di vista questa è un'Italia che c'è già io ricordo tante immagini una su tutte lo sgombero di piazza indipendenza ma si potrebbero fare tantissimi altri esempi del genere si è detto l'Italia è diventato un paese razzista non è vero è chi governa questo paese aver fatto leggi razziste e a prendere provvedimenti razzisti quello che io vedo da un'altra prospettiva dal basso lavorando sui territori è che in Italia ci sono milioni di persone impegnate tutti i giorni contro la prevaricazione e contro lo sfruttamento ci sono associazioni ci sono comitati ci sono tante persone che la pensano diversamente e che non riescono a mettersi insieme e a farsi sentire e a cambiare le cose questo è quello che noi vogliamo fare metterle insieme abbiamo questa pretesa che è un obiettivo che è molto più grande del 3% qualcuno prima mi chiedeva ma il 3% ma le firme ma noi siamo molto più ambiziosi di così magari il nostro problema fosse il 3% noi questo potere popolare lo vogliamo costruire davvero e lo vogliamo costruire a partire da quello che già c'è ma che non sta insieme non è legato in una rete e non si riesce a far sentire al momento attuale potere popolare per noi significa controllo su tutto controllo su come vengono spesi i soldi quei famosi soldi che spesso ci dicono che non ci sono ma che poi vengono spesi per rifinanziare le missioni militari controllo su come viene gestita la nostra salute su come viene gestita la scuola che è in una situazione drammatica su come vengono gestite le politiche sociali perché siamo in un momento che è forse uno dei momenti più bassi per il nostro paese si parla di un divario tra i ricchi e i poveri che è sempre crescente cresce di anno in anno questo significa soltanto una cosa che i ricchi sono sempre più ricchi che i poveri sono sempre più poveri e sono sempre più invisibili espulsi dai centri delle città espulsi dai media dalle televisioni devono scomparire sembra che la soluzione per tutti i problemi sia semplicemente allontanarli dalla vista allontanarli dagli occhi la soluzione di questi problemi invece è affrontarli di petto è quello che noi vogliamo fare affrontarli di petto e non abbiamo paura perché abbiamo fatto tutti noi militanti di più lungo corso di più breve corso abbiamo fatto un'attività che è un'attività quotidiana che è ben più difficile di questa sfida è per questo che le firme non ci fanno paura è per questo che non ci fanno paura il 3% i dibattiti in televisione questa roba è uno scherzo rispetto a quello che tutti quelli che hanno preso parte a questo percorso hanno fatto tutti i giorni e non è un caso che nelle liste dei nostri candidati ci siano dei combattenti ci siano delle persone che sui loro posti di lavoro che nelle scuole che in ogni situazione per difendere i loro territori hanno messo non soltanto la loro faccia ma si sono messi petto in fuori a lottare questa non è che una delle tante sfide che abbiamo fatto nella nostra vita è una sfida però importante perché costruendo dal basso si può non arrivare a farsi sentire è importante invece utilizzare questi due piani questi due strumenti così come c'è la lotta sui territori così come c'è una lotta orizzontale ci deve essere anche la possibilità della rappresentanza questo perché anche questo è potere potere di farsi sentire potere di cambiare le cose quello che noi promettiamo è che ci siamo promessi in questo patto reciproco che abbiamo fatto soltanto due mesi fa quando per la prima volta in molti casi le nostre storie si sono incrociati perché veniamo da esperienze diverse da generazioni diverse da luoghi diversi la cosa che ci siamo promessi era quella che saremmo andati avanti ed è così non può che essere così così come abbiamo lottato fino adesso continueremo se questo passaggio ci porterà a dei risultati importanti e già ci sta portando a dei risultati importanti perché ci ha messi insieme meglio ancora questo è il mio augurio per potere al popolo è l'augurio che ci facciamo tutti prima Matteo sottolineava e con questo concludo che qui dentro ci sono tante figure sociali come nelle nostre liste ci sono tante figure sociali quello che io mi permetto di invitare a fare mi permetto di invitare i giornalisti a fare domande anche a loro non a me io sono disposta e disponibile a rispondere a tutti ma questa funzione di capo politico che il Rosatellum ci impone lo rifiutiamo tutti quanti in blocco e quindi io vi invito anche a chiedere a parlare direttamente a loro perché nessuno meglio di chi le contraddizioni le vive e le lotte le fa tutti i giorni sa rispondere sulle questioni che lo riguardano con questo vi do la parola chiedo chi vuole intervenire e procediamo scusate volevo aggiungere una cosa io purtroppo devo andare a lavorare a differenza di tante persone che sono qui in Parlamento e in realtà non fanno il loro lavoro non sono mai presenti qui sono un abitante della periferia e purtroppo devo andare a lavorare per poche centinaia di euro grazie insomma alle ultime politiche degli ultimi vent'anni e quindi tolgo il disturbo mi dispiace ma è così come si chiama però mi chiamo Federico Luigi Giglio tra l'altro volevo anche ringraziare la presenza di Paolo Petrangili che comunque è un pezzo di storia dei movimenti in Italia l'autore di Contessa l'autore di Valle Giulia che comunque è candidato in potere al popolo e ha deciso di appoggiare con noi questa questa follia allora possiamo proseguire con le domande per chi vuole a Viola o a le vertenze che sono presenti io per questo non ho ascoltato le interviste prima però forse ha già risposto avete già risposto quindi chiedo scusa se l'ha già detto io faccio la domanda poi decidete voi chi vuole rispondere naturalmente chi ha la competenza e la voglia di rispondere sono Daniele Preziosi del manifesto grazie allora intanto visto che voi fate le alleanze dal basso a quanto ho capito e con le persone che incrociano le vostre vertenze e la vostra militanza e il lavoro che fate volevo chiedervi se dal basso avete mai incontrato altre forze politiche che adesso non stanno dentro la vostra coalizione e per esempio se avete incontrato quelli dei 5 Stelle perché il tema di questa campagna uno dei temi di questa campagna elettorale con questa legge elettorale è quello delle alleanze future una volta che uno va in Parlamento quindi vi chiedo con chi vi alleereste in particolare con i 5 Stelle e poi un'altra cosa voi siete nati il vostro percorso è nato da una rottura che ci fu all'Assemblea del Brancaccio e allora vi chiedo scusate ma è doveroso qual è il rapporto con l'altra forza politica che invece più o meno diciamo dal Brancaccio è nata brevemente riguardo ai 5 Stelle non li abbiamo mai incontrati non faremo alleanze non c'è alleanza possibile con chi non è chiaro sui temi dell'Europa sui temi del razzismo c'è un'ambiguità radicale su questo e non mi dilungo poi appunto se ci sono se vogliamo entrare nel merito entriamo nel merito ma insomma Di Maio iniziasse a decidere lui che cosa vuole fare e cosa vuole pensare di questi temi visto che cambia ogni giorno anche se ho il sospetto che lo sappia benissimo e poi insomma si potrebbe ragionare ma noi alleanze non ne facciamo non ne faremo non c'è nessuno con cui allearci sul Brancaccio e su Liberi Uguali anche qui Flash quel percorso è un percorso rispetto ai quali molti che molti di noi avevano guardato con simpatia dipende insomma dalle varie anime di questo di questo progetto di questa lista resta il fatto che quel percorso ha avuto un'evoluzione che era un'evoluzione che ha tradito i suoi scopi iniziali si era parlato di un percorso dal basso si era parlato di mettere insieme i comitati che avevamo lottato per il nuovo referendum sono state prese decisioni fra quattro mura a porte chiuse passando sulla testa di chi quel percorso in dei mesi l'aveva anche costruito e probabilmente ci aveva creduto ci aveva sperato in questo senso mi sembra evidente che il tradimento del percorso è dall'interno del percorso è Tommaso Montanari a dire che l'assemblea del 18 novembre non ci sarebbe più stata per intenderci che quindi quel percorso non aveva più senso di continuare rispetto a liberi uguali so che la domanda come devo dire sorge spontanea come si usa dire però mi sembra banale chiedo scusa non è banale è giusto così perché appunto il percorso del Brancaccio ha portato in qualche modo a percorsi diversi a soluzioni diverse non ci può essere convergenza sono gli stessi di prima cioè poi forse qualcuno ci starà credendo io non lo so ma sono gli stessi di prima non c'è discontinuità non c'è assolutamente una posizione convergente praticamente su nulla rispetto a quello su cui loro si sono espressi fino adesso e tra l'altro farei presente che insomma D'Alema anche nelle ultimissime ore continua a fare dichiarazioni come se non si fosse capito ma vorrei avvertirlo che si è capito che loro vogliono fare l'alleanza col PD vogliono stare insieme disperatamente a un corteggiamento come devo dire ormai disperato anzi utilizzo questa occasione per dire si è capito rispondetegli perché si è capito vuole stare con voi state insieme è la vostra naturale prosecuzione insomma mi sembra giusto così mi dispiace anche che si siano divisi ma sono coppie che secondo me sono difficili da separare definitivamente è un amore che continua mi sembra chiaro sinceramente grazie se posso aggiungere una questione voi avete detto comunque liberi uguali di fatto una sorta di PD2 voi parteciperete alle elezioni politiche le ho assicurato che il simbolo ci sarà che la raccolta firme proseguirà spedita per quanto riguarda dei regionali anche in quel caso vi presenterete e anche in quel caso ci sarà un veto l'alleanza con liberi uguali e il centro-sinistra allora sulle regionali in Lombardia no ma perché per anche questioni di tempi e di difficoltà burocratiche che tutti quanti sappiamo che ci sono sulle altre regioni ci stiamo lavorando per noi nel momento in cui il percorso rimane con questa natura così come non è possibile l'alleanza alle politiche non è possibile neanche alle regionali non è che siamo schizofrenici insomma non ci piacciono né sulla regione né sulla politica nazionale questi qui quindi va bene così meglio soli che mal accompagnati se era possibile sul Movimento 5 Stelle ho visto che ha precisato non siamo d'accordo sulla loro impostazione di Europa ha ammesso che però non mi faccia domande difficili su cose che loro non sanno cioè non mi chieda qual è la loro posizione la mia domanda era proprio questa cioè lei ha criticato la posizione sul Movimento 5 Stelle sull'Europa che spesso non è chiarissima neanche a noi allora volevo sapere la vostra posizione invece sull'Europa cioè voi se foste eletti al Parlamento in un futuro ma lo saremo sicuramente lo saremo sicuramente io lo auguro è difficile sono collegi ci sono un sacco di voti per tutti non è che non per voi per tutti voglio dire vi rifate a un modello per esempio alla lista Zipras o a qualcosa allora a noi sembra che il modello più vicino quello che si può abbracciare però ovviamente tutti i modelli hanno una loro appartenenza sia quello di Melanchon mi sembra che quella posizione sia una posizione soprattutto rispetto alla questione dei trattati e quindi alla possibilità di decisione una posizione a partire dalla quale si può discutere e si può ragionare ovviamente ogni storia ogni paese ha la sua storia ha le sue dinamiche quello che per noi è chiaro è che questo modello d'Europa non va bene che i trattati sono inaccettabili vanno respinti non possono essere riformati questo per noi è chiarissimo su Di Maio non le so dire perché forse neanche lui non saprei a quest'ora non so cosa pensa l'Europa su questo vi saluto tutti sono molto contento di essere qui con voi e con i miei amici dal potere al popolo potere al popolo è chiaro per noi l'immigrazione non è un problema ma è un'opportunità perché noi sappiamo che l'immigrazione noi che viviamo al sud dell'Italia a Napoli nella campagna sappiamo che è un'opportunità perché abbiamo visto che gli immigrati fanno dei lavori che non fanno gli italiani per esempio quando vai a foggiare oltre per noi l'immigrazione è una cosa normale e ogni di noi deve rispettare la posizione degli altri e di là vi rinvio sull'articolo 1 della concessione italiana che dice che l'italiano è un paese di repubblica la città dove tutte le persone possono vivere con tutto l'oggetto allora per noi potere al popolo l'immigrazione non è un problema ma un'opportunità allora la cosa che noi cerchiamo a fare noi al popolo di sistemarlo dell'organizzazione perché ogni di noi si sente bene e vive con tutti i direttori soprattutto al rispetto della legge italiana per noi l'immigrato è una cosa non è un problema è un'opportunità noi invece di parlare di parlare troppo noi facciamo le azioni per almeno poter integrare i immigrati e questo fatto perché è là e questo alternativo che noi abbiamo proposto non è di parlare di dire che mandiamo la casa aiutiamo la casa no noi siamo con un progetto di società diciamo che tra questo facciamo questo tra questo facciamo questo ed è cosa chiaro molto molto chiaro possibile fare e noi adesso vogliamo montare gli italiani che votano non hanno servito dei deputati per essere alla Camera per parlare che ha dei polemici ma per cercare soluzioni per uscire della crisi della crisi gli italiani non l'interessano che questo è dal nord questo del sud no gli italiani la cosa che l'interessano è come fare per uscire la crisi come fare per dare lavoro a mio figlio come fare eccetera eccetera e noi su questo modo siamo aperti per tutti l'opportunità che puoi fare le cose buone all'Italia io sono Giovanna Reanda di Radio Radicale allora prima lei diceva bisogna parlare non alla pancia ma alla testa e al cuore poi anche il fatto che questa vostra lista appunto parli di popolo c'è un gran un gran dibattito invece su altre forze politiche che più che popolo adoperano il populismo la domanda era sul garantismo e su che cosa ne pensavate voi più in generale del del carcere di tutto ciò che orbita intorno al pianeta della giustizia considerando il fatto che tanto per fare un esempio visto che sono stati molto nominati il Movimento 5 Stelle ha addirittura adesso i decreti legislativi sono arrivati quelli sulla riforma dell'ordinamento merita in zero sono arrivati qui alla Camera in Commissione Giustizia per il parere e ieri appunto loro hanno detto nel Movimento 5 Stelle hanno detto che questo era addirittura un attacco alla democrazia perché di fatto questo è un paese che poi alla fine non conosce il concetto di giustizia rimanda fuori le persone dal carcere insomma ecco che cosa ne pensate voi qual è la vostra posizione grazie allora il carcere a cosa serve cosa deve fare e facciamo un bilancio perché senza bilanci si fanno dei racconti che sono puramente ideologici il carcere per noi non è uno strumento né di vendetta né per prostrare chi si trova in carcere chi si trova in carcere deve avere una pena commisurata a ciò che ha fatto ma non deve essere vessato questo lo dice la Costituzione non lo dice potere al popolo noi pensiamo che sia necessario e questo è importante non soltanto dal punto di vista morale e non ho vergogna di usare questa parola perché secondo me l'etica e la morale sono cose belle ma anche da un punto di vista di sostenibilità economica pensare a un carcere che funzioni pensare però anche a un carcere che sia visto nell'ottica della rieducazione di misure alternative noi non possiamo trascurare il fatto io posso fare l'esempio di Poggio Reale che è la realtà che conosco perché è più vicina a casa mia a dove io vivo negli ultimi cinque giorni si sono impiccate tre persone nelle carceri italiane Poggio Reale è il carcere d'Italia dove ci sono più suicidi moltissime di queste persone hanno disagio mentale moltissime di queste persone sono malate e non vengono curate queste persone hanno diritti e non ne parla nessuno anche qui torniamo a fare il discorso della pancia della testa parlare di carcere significa fare una scelta che è popolare ma che non è populista perché significa dire che quelle sono persone che sono persone che devono essere tutelate rispettate nel loro diritto alla salute mentale e fisica e che devono scontare una pena che sia commisurata che sia proporzionata il carcere deve essere l'educazione voglio sottolineare questo non è soltanto una questione morale è anche una questione economica il carcere così come è fatto adesso non serve a niente la recidiva è altissima dove invece c'è l'educazione e ci sono percorsi alternative al carcere la recidiva diminuisce questo significa che c'è un costo economico e sociale che diminuisce evidentemente a chi fa discorsi soltanto forcaiole e giustizialisti non interessa questo interessa sbandierare e prendere voti questa è l'impressione e questa è l'idea che abbiamo noi il carcere deve funzionare in un altro modo che non significa che le pene non debbano essere scontate che non significa che qualcuno debba andare a correre felice nei prati come si pensa che pensino quelli che il carcere lo vogliono riformare ma il carcere deve funzionare per la sua funzione originaria rieducazione se non abbiamo altre domande Lina vuoi intervenire vuoi intervenire spiegare un po' il perché insomma di potere al popolo anche per voi allora allora io sono io sono mi chiamo Lina Petrone e sono una mamma una casalinga e una volontaria io faccio parte della rete di solidarietà popolare noi ci prendiamo cura e ci battiamo per i senza fissa dimora per le persone bisognose io sono una persona molto semplice non avrei mai pensato in vita mia di trovarmi qua al Parlamento in questo posto mi è stato detto di vestirmi carina però diciamo che il mio vestito è questo e potere al popolo mi permette di fare politica così e perciò io ho accettato la sfida questo volevo dire è lei la cuoca di Lenin allora io sono Maria Vittoria Molinari e anch'io come Lina ho chiesto prima dove fosse il bagno quando ho abbarcato quella porta mi sono resa conto di dove stessi veramente perché ancora non ho chiaro che cos'è questo palazzo del potere questo palazzo del potere da cui dopo un po' di tempo un po' di anni una commissione di indagine sulle periferie si è resa conto che in questo paese ci sono circa 15 milioni di persone che vivono nelle periferie e che sono a rischio di disagio sociale che non hanno assolutamente l'idea di come sarà il loro domani allora io che vengo appunto da Torbella Monaca dal sesto municipio di Roma che è uno dei territori più grandi della città e che mi occupo oltre che della lotta per la casa anche di ambiente rifiuti lotta alle cementificazioni che chi è di questa città sa bene che molti di quella stessa commissione per le periferie hanno contribuito a cementificare vabbè ma questo diciamo appartiene al passato perché questo è un paese che ha la memoria corta ed è per questo motivo che anch'io ho accettato la sfida perché finalmente forse potremo mettere insieme tutte quelle persone che vogliono divise perché questo è il punto il potere qui dentro le vuole divise noi invece le vogliamo unire le vogliamo unire perché soltanto unendoci tra di noi tra quelli che tutte le mattine devono alzarsi e devono andare a cercare un lavoro mettere il piatto sul tavolo pieno anche molte persone disperate quelle persone illegali che noi spesso negli nostri sportelli nelle nostre sedi perché io faccio parte anche di appunto di un movimento Asia che appunto si occupa di questioni legate soprattutto al tema della casa sono disperate compiono anche atti illegali ma che noi non possiamo giudicare perché sono esattamente quei disperati che questo stato di cose vuole continuare a far rimanere così e noi queste cose le vogliamo cambiare io andrei alle conclusioni giusto due parole intanto stiamo raccogliendo le firme le stiamo raccogliendo in Italia tra l'altro ci hanno detto da Genova che stanno impedendo di raccogliere le firme perché siccome hanno accoltellato una persona che fa parte di potere al popolo allora hanno paura che se noi stiamo a raccogliere le firme col banchetto poi Casa Pound non so si innervosiscono quindi diciamo non solo l'hanno accoltellato ma non possiamo raccogliere le firme perché se no Casa Pound si dispiace quindi facciamo anche questa è un'emergenza democratica il fascismo ha tanti volti in questo paese ma c'è anche proprio un volto che non si nasconde che è chiaramente fascista e nessuno sembra accorgersene rispetto alla necessità di illegalizzare questo tipo di organizzazioni quindi stiamo raccogliendo le firme le stiamo raccogliendo in Italia le stiamo raccogliendo in Europa perché per noi connetterci con un territorio che va oltre quello nazionale è fondamentale perché il livello dell'attacco che ci fanno non è soltanto sul piano nazionale e quindi noi ci dobbiamo porre appunto a quel livello quindi ci stiamo organizzando anche sul livello europeo l'ultima cosa le cose che sono state dette qua lo so sono molto semplici forse banali sono le cose necessarie che vogliono tutti noi non vogliamo parlare in maniera complicata vogliamo parlare in un modo per cui tutti ci possano comprendere e parlare delle esigenze che sentono tutti questo non è populista questo è popolare è per questo che siamo sicuri che questo percorso questa sfida che abbiamo raccolto sarà una sfida che andrà bene perché diciamo le cose che vogliono tutti e quando uno dice le cose semplici e le cose che colpiscono direttamente chi ti ascolta secondo me non può che avere successo non può che riuscire io penso che chi ha parlato qua questa mattina ha dimostrato qual è il cuore di questo progetto è esattamente quello che vi hanno detto loro quello che ho provato a dirvi io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete dato e per la possibilità di raccontarvi che cosa stiamo facendo speriamo di rivederci sì allora non c'è stato possibile portare il simbolo dentro noi avevamo portato anche una bandiera del notav non muos di tutti i comitati che appunto dal basso fanno una lotta ambientale e appoggiano questo movimento quindi ha neanche il nostro simbolo il simbolo di potere al popolo che è stato deciso da tutte le assemblee territoriali è stato premesso ad entrare quindi faremo le foto fuori sottolino anche che noi riusciremo a presentarci anche la circostituzione europea che questo è un bellissimo risultato perché comunque all'assemblea dell'Ambra Jovinelli erano presenti anche esponenti di Francia Insumis di Unidos Podemos e di Momentum e che quindi c'è un appoggio da tutte quelle che sono le forze radicali di questa Europa e quindi lunga vita a potere al popolo e grazie per la partecipazione grazie